Io sono Andasse Paola della cooperativa Casona, dopo quando lavoriamo con Poli Veneto, che l'assessore Zan ha sistemato il nostro lavoro dopo quando noi prendevamo 4 euro, qualcosa, allora Zan ha sistemato tutto, che adesso prendiamo 6 euro, che il lavoro è stabilito, dopo due anni dicono che non c'è più lavoro, dopo dieci anni di lavoro. Però questa è una cosa tremenda per noi e per quello che siamo qua oggi, stiamo facendo questa manifestazione. Volevamo chiedere a CEGAS, a APS di Padova e Comune, la nostra associazione, perché noi abbiamo moglie, abbiamo figli, dopo tutti questi anni cosa dobbiamo fare? Allora questa è la spiegazione, anche tutti i padovani sanno che noi 4 che lavorano qui in centro da anni, anche festivi, non festivi, domenica, siamo sempre qua in centro, da tutte le ore, per fare la pulizia del centro storico di Padova. Oggi siamo qua, oggi, i 4 lavoratori che fanno questo lavoro. Volevamo una spiegazione a parte del Comune, anche dall'APS, per spiegare quello che sta succedendo, perché noi non sappiamo come mai che dopo tutti questi anni dicono che non c'è più lavoro, che non c'è più soldi per sostenere questo appalto. Noi non sappiamo. O se c'è un'altra cooperativa che sta per arrivare, perché ogni anno c'è sempre questo problema qua. Ogni anno c'è questo problema qua. Noi non sappiamo quello che possiamo dire per quello che siamo qua oggi per manifestare. Bubba, dà una al signor. Grazie. Grazie.